Non si arresta il controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine in tutta la provincia di Caltanissetta. Nel corso della consueta attività di controllo del territorio svolta nella provincia nissena, la Polizia di Stato, in diversi interventi, ha denunciato 10 persone all'autorità giudiziaria e sequestrato cocaina, hashish e marijuana. In particolare, un uomo di 45 anni è stato denunciato all'autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori e un 35enne è stato indagato per truffa, mentre un ragazzo di 17 anni e un 63enne sono stati trovati in possesso di armi. Due uomini di 30 anni sono stati denunciati per maltrattamenti in famiglia, un 70enne per negligenza nella detenzione di armi e un 34enne per evasione dagli arresti domiciliari. Infine, due persone, una di 44 anni e una di 27, trovati entrambi in possesso di sostanze stupefacenti, la prima con tre involucri di cocaina e marijuana, la seconda con quattro stecchette di hashish, sono state denunciate all'autorità giudiziaria.